In diretta su RBI Radio TV dalla 47esima edizione della rassegna dell'artigianato pinerolese, anzi 40 più 7, andiamo veloce perché sono tante le cose da raccontare, artigianato, arte, ma non solo come abbiamo potuto vedere nell'intervento precedente, abbiamo anche raccontato una parte importante di Pinerolo, il top dello sport pinerolese con la neo capitana di Union Volley e adesso torniamo e ci spostiamo di nuovo su un altro campo Corinne. Esatto, parliamo di Marionetta, abbiamo qui con noi Sergio Barrios che è appunto marionettista e la prima domanda che volevo farti perché io stessa non conosco bene la differenza tra Marionetta e Burattino. Buongiorno a tutti, sì questa domanda sempre se la fanno tutti, allora te posso esplicare dal mio punto di vista perché ogni marionettista ce l'ha la sua, no? Qua in Italia il marionettista si conosce anche come burattinaio, invece la marionetta propriamente tal viene del termino marion de greco, penso, che significa filo, quindi propriamente la marionetta è marionetta filo, però oggi in dia può essere marionettista o burattinaio, non c'è una differenza propriamente tal nel senso della parola, se no più la tecnica. La tecnica marionetta è marionetta filo, invece ci sono marionetta guante, scusate il mio italiano, sono 17 anni qua ma ancora mi mancano delle parole. Ci capiamo, ci capiamo. Allora, marionetta guante, marionetta filo, ci sono tecnica e marionetta bastone, appunto voleva raccontare un po', io sono proprio un marionettista, ma ho fatto anche altri tipi di tecnica, ho lavorato, e le marionette ci sono tante tecniche diverse, quindi è un mondo molto molto ampio. Ecco, sappiamo che possiamo, e tutti i pinerolesi e i visitatori di questo artigianato possono venire a trovarti, sei ospite di una delle botteghe aperte in Via del Pino, esattamente. Certo, Via del Pino 56, se non mi sbaglio. Esatto. Ex Mao. Ex Mao dove, ecco, noi, io oggi avevo chiesto a Sergio, che insomma conosco perché abitiamo abbastanza vicini e ho visto più volte anche i suoi spettacoli, gli avevo chiesto, ma magari se riesci a portare qualcosa, però ecco, è tutto allestito, è tutto molto in equilibrio e non è stato possibile, però siamo già molto contenti ecco di avere te a raccontarcelo. Ma se andate a trovarlo potete vedere e sorprendervi, perché forse è un po' questo, no, il bello anche del tuo lavoro, portare i bambini, ma i bambini di tutte le età, anche della nostra, in un mondo di sogni, di fantasia, di colori, anche attraverso una semplice marionetta, che poi troppo semplice non è. Certamente. Allora, voglio chiarire una cosa. Il teatro marionetta è proprio un'espressione molto antica, infatti era così antico, per esempio, qua in Europa, nel Medievo, si usava proprio per adulti, cioè la marionetta è venuta rapportata per bambini nell'epoca contemporanea, hanno fatto proprio passare del teatro marionetta a intradizione dei bambini. Noi, in questo punto, appuntiamo molto forte a ritornare l'antichità come proprio un'espressione teatrale. Le marionette non sono solo per bambini, anzi, credo che se vedi un spettacolo marionetta, ti trasporta a essere un bambino, magari, o, anche mai tu hai visto una marionetta, quando vedi una, non lo so, ti succede qualcosa che ti porta indietro, e questo è interessante, e soprattutto le marionette di filo, per esempio, si trasportano a tante diversità e forme, no? Per esempio, qua, io sono arrivato tanti anni fa qua in Italia, per la curiosità, perché in Europa, soprattutto qua in Italia, che tante, mi ho trovato con gente che non lo sa che sono italiani, ma qua in Italia c'è una cosa molto ricca con le marionette. Per esempio, in Sicilia c'è il pupi siciliano, che è molto autentico nella sua tecnica, proprio molto autentico nella sua tecnica. E il Napoli, ci ritroviamo a Pulcinella, che è molto anche lì. loro, per esempio, predomina la storia, e invece lo che faccio io è una cosa molto più contemporanea, che è dove io lavoro con la pantomima. Le marionette vivono e vivono avanti dagli occhi dell'espettatore e parlano verso il movimento, che è quello lo bello di questa storia, dove un oggetto inerte prende vita. E quello è lo interessante delle marionette. E quindi, insomma, la marionetta non si può staccare dallo spettacolo, no? Perché è in quel momento che prende vita. Assolutamente no. Credo che la marionetta deve esistere. Infatti, noi stiamo lottando, soprattutto in questo tempo, dove la tecnologia, dove il videogioco, che non sono il contrario, è normale che la tecnologia deve continuare ad avanzare, ma le cose preziose, come il teatro di figura, non deve perdersi, perché questo è una cosa che nessun gioco, nessuna tecnologia te lo darà. L'automata e il meccanico è una cosa, però quando una persona tramuta, io le parlo come una tramutazione della mia energia per darle una vita, ah, esci il mio dottore. Saluto, dottore. Quindi sono molto, appunto, diceva questo, che ti transporta a un mondo diverso e io invito a tutti ad andare a vedere. Purtroppo l'espazio che ho, non è allestito per fare spettacoli, ma ci sarà una sorpresa quando ti riunite un po' di persone. Io faccio piccole dimostrazioni di un minuto per far vedere proprio il movimento, ma ti troverete veramente di sorpresa su questo. Voglio anche dirle che le marionette è una cosa molto ampia, tecnicamente ci sono diverse, c'è il bunrago giapponese, c'è le chavanese in Indonesia, c'è qua in Italia, appunto, il siciliano, il Napoli, in tutte le regioni ce l'hanno anche una maschera propria. Certo, ecco, ricordiamo che tu Sergio non solo manovri le marionette, ma le costruisci, te le costruisci su misura. Ecco, nel momento in cui costruisci una marionetta sai già cosa quella marionetta farà nel tuo spettacolo? Oppure è un passaggio che avviene dopo, nasce prima la marionetta e poi ciò che la marionetta fa? Oppure è un tutt'uno? Lo hai detto bene, è tutto insieme, è tutto insieme. Ci sono volte che io voglio fare una marionetta ma non proprio un personaggio, quindi comienzo a far nascere questa marionetta e comienzo a trovare quel personaggio, quel personaggio lo impienzo a vedere e dopo le aggiungo proprio al suo nome e lo che fa. Le marionette per costruirle, lo dico una roba così, lo che io dico quando faccio dei piccoli corsi, che la marionetta tu la contribuisci con un passato, con un presente e con un futuro, così già sai a dove va, in quella direzione. Vorrei anche fare un parentesi su questo, sopra il punto dell'arte delle marionette. Qua a Pinarolo, propriamente tal, tanti anni fa si faceva un festival bellissimo del teatro di figura, adesso continua facendosi, ma è chiuso in teatro che lo organizza Damiano Privetera e con il teatro del lavoro. Loro ce l'hanno una traiettoria forte, quindi le saludo anche, ma io vorrei proprio che tornasse anche l'espazio delle marionette a tutti pubblico, perché veramente devo dire, questa è una cosa personale, non è in contra di nessuno, però voglio dire che l'arte delle marionette deve andare più vicino alla gente, allo social, deve avvicinarsi alla marionetta, perché quando tu non lo vedi mai, non sai cosa è, invece quando tu fai, per esempio, in questo festival, c'erano due giorni, mi ricordo, sabato e domenica, dove tutti gli artisti andavano al centro storico e ogni uno si postava in un punto. Cose molto diverse, cose particolarissime. lì c'era il pubblico, il che piaceva, il che non piaceva, il che non conosceva, il che le conosceva, cioè c'erano tutti, tutti, e quello è lo bello. E forse è proprio quella la casa delle marionette. Infatti, se andiamo alla storia, nel Medievo, come ti diceva, c'è le saltimbanche, tutto, e anzi, era molto politico, il teatro di marionette era molto politico, per quello che dopo lo hanno trasformato in una cosa dei bambini, è vero, era molto molto politico. Benissimo, allora, so che, insomma, il tuo laboratorio, il tuo spazio è molto frequentato e devi tornare a occupartene e noi ti ringraziamo per, insomma, esserti dedicato a noi per questi minuti e mi raccomando, andate a trovare Sergio perché rimarrete stupefatti. Io, che l'ho già visto più volte, ieri sera mi sono ritrovato per l'ennesima volta incantato a vedere questa marionetta che in questo caso suonava un violino, davvero, è una magia e se volete, insomma, godere di una magia andate a trovare Sergio in Via del Pino, 56. 56. Smau. Boh, ringrazio a voi e a voi per darmi questo spazio per diffondere un po' lo che io faccio e invito a tutti. Il posto è piccolo ma ci troviamo un posto per tutti. Come ho detto prima, non è adatto a fare spettacolo ma le troverete delle sorprese. Piccole dimostrazioni. Certo. Grazie a Mili. Grazie a te e così scopriamo un po' anche questa magia per non perderla. musica e poi continuiamo.